Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo di Thrustmaster che sta stuzzicando i propri fan con nuovi dettagli sul suo nuovo Direct Drive annunciato appunto in questo appena passato 2021. Quello che si riesce a vedere dal teaser di questa immagine pubblicata sull'account ufficiale Twitter di Thrustmaster è una specie di leva d'argento che sembra collegare un mozzo di una base Direct Drive a un volante. Una sorta di quick release di proprietà Thrustmaster, questo per contrastare quella che è la guerritissima concorrenza sul mercato appunto adesso dei Direct Drive, soprattutto negli anni passati. Questo ci rassicura un attimino per quanto riguarda l'avanzamento del progetto di Direct Drive perché Thrustmaster ha questa diciamo abitudine di lasciarci un po' in sospeso per quanto riguarda le notizie però ha mantenuto la sua parola dandoci qualche informazione a fine dicembre ed è arrivata appunto in quest'ultimo 20 gennaio con questo post su Twitter svelando questo dettaglio molto interessante. Ovviamente non abbiamo altre notizie in merito, cioè non sappiamo le caratteristiche di questo volante, non sappiamo quando uscirà, non sappiamo i prezzi, non sappiamo i newtonmetri, come sarà il sistema, non sappiamo nulla ragazzi sappiamo solo che c'è questa leva che sembra funzionare come quick release sappiamo di certo che sarà compatibile per adesso solo per PC e che le prossime notizie saranno disponibili il 3 marzo quindi segnatevi questa data, il 3 marzo Thrustmaster ci svelerà un altro pezzo di questo progetto Direct Drive secondo la mia modestissima opinione avremo il quadro completo di questo Direct Drive per agosto 2022, agosto settembre perché sembra dalla grafica di questo hashtag Starting Lights e di queste luci di partenza che siamo ai due quinti di quello che è il progetto totale di questo Direct Drive quindi ragazzi, rimanete sintonizzati come al solito, lasciate un commento se avete maggiori informazioni in merito non esitate a lasciare un pollice in su se questo video vi è piaciuto con questa piccola notizia di Thrustmaster iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, attivate la campanellina così rimanete sintonizzati sul nostro canale da Fabrice è tutto, un abbraccio Grazie a tutti